Villa Carmela, casa di riposo, residenza albergo per anziani, a Bracigliano, in via Vescovo Capaccio, 32. Un provvedimento umiliante e bessatorio, segno della mancanza della conoscenza da parte dei parlamentari, del ruolo e delle competenze del dirigente scolastico previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Parole dure, quelle di Filomena Adinolfi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Carducci Trezza di Cava dei Tirreni, che si associa agli altri dirigenti scolastici per la protesta contro il controllo biometrico, previsto dal decreto concretezza approvato dalla Camera dei Deputati. Il decreto, come è noto, intende il lavoro del dirigente scolastico al pari di qualunque altro impiego statale, vincolato quindi ad un orario da certificare con le impronte digitali. Ma i dirigenti scolastici non ci stanno a tale provvedimento, in quanto, tra le motivazioni della protesta, emerge anche la responsabilità degli stessi di dirigere eventualmente più sedi e plessi dello stesso istituto scolastico. Il sindacato dirigenti scolaconfederati, presieduto da Attilio Fratta, ha provveduto in questi giorni ad inviare una lettera con migliaia di sottoscrizioni al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai due vicepresidenti, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per esprimere contrarietà, frustrazione e umilazione della categoria nei confronti di tale provvedimento. C'è da dire che il controllo biometrico per i dirigenti scolastici, che è stato previsto dal DDL Concretezza e approvato dalla Camera dei Deputati, rappresenta per i dirigenti scolastici un provvedimento umiliante e vessatorio. Questo in quanto è immediato il fatto di comprendere che non è un provvedimento supportato dalla normativa, né tantomeno dalle caratteristiche del nostro contratto. Quindi è la prova provata della mancanza di conoscenza da parte dei parlamentari del ruolo, delle funzioni e delle competenze del dirigente, previste nello specifico dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in quanto nel contratto si dice che il dirigente scolastico non ha un orario di ufficio e non potrebbe essere altrimenti, anche perché, come ormai è noto, un'istituzione scolastica, cioè un'amministrazione complessa, ha tante sedi, a volte anche decine di sedi, e il dirigente scolastico dunque svolge la sua attività lavorativa spostandosi da un plesso all'altro, ma anche dovendo interloquire con enti locali, associazioni del territorio, con ambiti territoriali provinciali, con l'USR durante le conferenze di servizio e tanto altro, perché fa parte del suo lavoro il rapporto con le associazioni del territorio, con le imprese locali e con tanti altri interlocutori. Per cui, essendo un dirigente apicale di una amministrazione complessa, va sottolineato che è l'unico dirigente della pubblica amministrazione ad avere un personale subordinato pari a, in media, 100-150 unità tra docenti e ATA, nessun altro dirigente della pubblica amministrazione ha tanti sottoposti, e ha un'utenza pari a, in media, 1.000 studenti, che significa 2.000 famiglie. Inoltre, all'interno dell'organizzazione complessa, che è l'istituzione scolastica, con un'utenza così elevata e con dei numeri così grandi di personale, è l'unico dirigente con funzione apicale. Il controllo biometrico implicherà, qualora dovesse passare anche al Senato, un esborso economico da parte dello Stato notevole in termini di installazione di impianti, di rilevatori biometrici, che dovrebbero, pertanto, proprio per poter rilevare, essere installati in tutte le sedie e plessi di cui si compone un'istituzione. Ci sono colleghi che hanno anche 20 plessi, quindi capite bene che lo Stato dovrebbe sprecare una quantità di risorse economiche notevole per fare qualcosa che è assolutamente inutile, dato che i dirigenti sono responsabili dei risultati, e quindi, voglio dire, ciò che fanno in termini di lavoro è ampiamente riscontrabile in altro modo. Le priorità delle scuole sono ben altre che quelle di inserire dei rilevatori biometrici per i dirigenti. Abbiamo veramente carenza di risorse economiche per realizzare il successo formativo dei nostri studenti e quindi questo è il motivo per cui l'Associazione Dirigenti Scuola ha stilato una lettera di protesta indirizzata al Presidente del Consiglio e finalizzata a fermare questo provvedimento vessatorio e umiliante per i dirigenti.